Il Dreamy World della giovane artista e attivista iraniana Sahar Ajdamsani ha fatto tappa nei suggestivi spazi del Museo Cinese di Parma. Cantautrice, poetessa, fotografa, scrittrice e guerriera per i diritti delle donne, a sole 23 anni Sahar parla, tra prosa, poesia e musica, di un mondo sognante fatto di fratellanza e pace tra i popoli. Ad accompagnarla nell'esibizione parmigiana sono stati il chitarrista Luca Nobis, Martina Suraccia alla viola e Giovanni Amighetti, arrangiatore anche del suo ultimo lavoro in uscita nel 2020, oltre alla cantante ivoriana e parmigiana d'adozione Prudence Obunom. Ho iniziato a studiare scrittura poetica a otto anni perché cantare è vietato alle donne in Iran. Noi donne possiamo solo partecipare a concerti per donne, che però non possono essere pubblicizzati e possono svolgersi solo tre volte all'anno. Con la mia arte sto cercando di sensibilizzare tutto il mondo alla pace, alla fraternità e a battersi per i diritti delle donne che in Iran sono completamente ignorati. Grazie a tutti per i diritti delle donne, perché molti di diritti delle donne sono ignorati in Iran, infortunatamente.